Lo stanno gridando forte le donne, gli studenti di Crotone, Crotone provincia, Crotone provincia, non vogliamo, vogliamo essere ascoltati, si diceva su un manifesto e non cancellati. E' Crotone che oggi, 17 sabato, 17 novembre 2012, scende in piazza per salvare la propria provincia, uno scippo, fuori da ogni regola, anche costituzionale, che non fa rispogliare un cazzo e che invece toglie a molte realtà, le proteste sono in tutta Italia, la possibilità di essere gestiti, governati meglio. Si allargano i confini di provincia e ne sappiamo qualcosa a Crotone perché quando si era sotto Catanzaro, tanto per dirne una delle strade pessime, delle strade davvero pessime, Crotone provincia e non molla, e non molla. Le donne prima arrivando allo stadio dicevano che bloccheranno la città, adesso è un'azione pacifica ma non sappiamo poi cosa potrebbe succedere, ci sono anche tutti i confaloni di quasi tutti i comuni della provincia, come potete vedere, Crotone combatte e non molla.